prossima richiesta ecco signora Chiara e poi ancora Torina di Quarto saluta gli ospiti e tutti gli amici eh di onda radio e poi ancora i figli marito eh il genero poi ancora ah ecco il brano mi richiede un brano ho cantato da Salvatore Solina si è accompagnato al piano alla all'organo elettronico da Salvatore Porro il brano ha come titolo quel tradimento scrivo questa lettera dalla mia cella del mio peccato non so non ho pentito ho ammazzato la mia bella perché con un altro mi ha travito ero partito a fare il soldato e le scrivevo con gioia ogni giorno l'amavo tanto sempre più innamorato le mi rispondeva amore aspetto il tuo ritorno e mi licenza non era la stazione ad aspettarmi c'era amici e parenti che mi spiegaron l'amaro ragione come un mastino di grigna dei denti scrivo questa lettera dalla mia cella del mio peccato non sono pentito ho ammazzato la mia bella e per un altro mi ha tradito andai a trovarla ero ancora indivisa il suo sorriso mi ha colse troppo forte secchi da lei che allora mi tradiva le andai vicino e le portai la mia bella non lo feci per scadalderia nel confessarlo sono tanto sincero credevo se non lo feci per scadalderia nel mio peccato non sono pentito ho ammazzato la mia bella e per un altro mi ha tradito se penso ancora a quel tradimento non ho rimorso ma tanta e tanta rabbia oggi una casa di sassi e di cemento e i miei castelli erano di sabbia e sono anni che qui sono rinchiuso quasi mi sento di stare in famiglia e con nessuno ancora mi scuso anche tu che ho ammazzato la figlia scrivo questa lettera dalla mia cella e il mio peccato non sono pentito ho ammazzato la mia bella e per un altro mi ha tradito tutte le notti nelle ore d'insonnia solo nel buio che porta consiglio penso a chi sono e provo vergogna troppo grande ho fatto questo sbaglio aveva vent'anni ed ora sono vecchio quando fui rinchiuso con quest'ontà scrivo questa lettera dalla mia bella e il mio peccato non sono pentito ho ammazzato la mia bella e per un altro mi ha tradito bellissima canzone questa che ci siamo ascoltati dalla voce di Salvatore Solinas e accompagnata all'organo elettronico da Salvatore Porro stupende parole queste composte da Franco Fibbi che ha come titolo quel tradimento brano che veniva richiesto da signora Chiara di Serargi e ancora Dorina da Quarto bene adesso tocca di